Amanda, hai visto la mia maglia rossa? e nei quali sporchi tieni ti do la mia dai muoviti siamo già in ritardo sì sì sono pronta hai preso tutto credo di sì mi mancherai dai un mese passa in fretta ma buon viaggio e mi raccomando alla maglia come farei senza di te? ok 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 Signorina, è ancora lì? Sì, ma le stavo dicendo Lo apra Mi dica almeno di che si tratta Spero che il servizio di assistenza della DTT Pandora le sia stato d'aiuto Pronto? Mi ascolti? Spero che il servizio di assistenza della DTT Pandora le sia stato d'aiuto Buona serata, Amanda Cosa? Pronto? Pronto? Che ci fanno stamattina? Cosa vuoi che le sani? Adesso sarai dimenticato la lì? Non direte non state, questa è sua Non è divenenza Da quanto è ora questa storia, eh? Paolo Che succede? È arrivato un pacco, ho chiamato Ma di che stai parlando? Conosceva il mio nome Aspetta, dai, entra e parliamone Stai tranquilla Siediti un momento Ti porto qualcosa? Non lo so Forse sono io Mi sto preoccupando per niente E quindi? Cosa ti ha detto quel tizio? Mi ha detto solo di aprirlo Ma come sai che era un uomo? Me lo hai detto tu, tesoro Ed Eva? È partita? Sì Ma lei non ne sapeva nulla Se vuoi lo apriamo insieme Va bene Ma lei non ne sapeva nulla Per il mio nome Ma com'è possibile? Sarà un errore Oppure uno scherzo Dai Non pensiamoci più Vieni qui Ma come? Non dormi qui? Sono già le dieci Devo andare Mi farò perdonare, promesso Perché vai via? Credevo di avertelo detto Ho un impegno di lavoro Con la mia migliore amica Mi fai sacchirlo? Tesoro dai, ora calmati Esci subito da questa casa Non voglio vederti mai più La mia migliore amica è la mia migliore amica Ciao! E' la mia migliore amica è la mia moglie! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti